Alessandro Magno era il figlio del dio Amon? Immaginate di essere trasportati indietro nel tempo, in un'epoca in cui la storia e la leggenda si intrecciano in modo inestricabile. Siamo nel IV secolo Anticristo, in una Macedonia che si prepara a diventare il centro di un impero vastissimo. Al centro di questa narrazione c'è un giovane principe, Alessandro, destinato a diventare uno dei più grandi conquistatori della storia. Ma chi era veramente Alessandro Magno? Era davvero il figlio di Filippo II di Macedonia? O c'è una verità più oscura e affascinante nascosta nelle pieghe della storia? Secondo una leggenda che ha affascinato generazioni di storici e narratori, Alessandro non sarebbe stato il figlio di Filippo, ma di un essere ben più straordinario. Amon, un dio egiziano. Questa storia ci porta nel cuore dell'antico Egitto, un luogo di misteri e divinità potenti. Amon, spesso raffigurato con corna di ariete, era uno degli dei più venerati del panteon egiziano, simbolo di potenza e fertilità. La leggenda narra che Olimpiade, la madre di Alessandro, fosse stata visitata in sogno da Amon, che le avrebbe predetto la nascita di un figlio destinato a grandi imprese. Questo sogno, secondo la tradizione, non era solo una visione, ma una vera e propria unione divina. Quando Alessandro nacque, Olimpiade era convinta che il suo bambino fosse il frutto di questa unione sacra, un semidio destinato a dominare il mondo. Ma come si intreccia questa leggenda con la realtà storica? Alessandro stesso sembra aver creduto, o almeno voluto far credere, a questa versione dei fatti. Durante la sua campagna in Egitto visitò l'oasi di Siwa, dove si trovava un famoso oracolo di Amon. Qui, secondo le cronache, il sacerdote dell'oracolo lo salutò come figlio di Amon. Questo episodio rafforzò l'aura di divinità che circondava Alessandro e consolidò il suo potere non solo come re, ma come figura quasi divina. La figura di Alessandro come semidio non era solo una questione di propaganda politica. Nella cultura dell'epoca, l'idea che un grande condottiero potesse avere origini divine non era affatto insolita. Gli antichi greci e macedoni erano profondamente influenzati dalle storie degli eroi mitologici, molti dei quali erano considerati figli degli dèi. Alessandro, con le sue conquiste straordinarie e il suo carisma, incarnava perfettamente questo ideale. Tuttavia, la leggenda del suo legame con Amon non è priva di contraddizioni. Alcuni storici suggeriscono che fosse una costruzione postuma, un modo per giustificare e glorificare le sue imprese. Altri, invece, vedono in questa storia un riflesso delle credenze religiose e delle pratiche, politiche dell'epoca. In ogni caso, la leggenda di Alessandro come figlio di Amon aggiunge un ulteriore strato di fascino e mistero alla sua figura. In conclusione, la storia di Alessandro Magno è un perfetto esempio di come la leggenda e la realtà possano fondersi per creare un mito duraturo. Che fosse davvero figlio di un dio o semplicemente un uomo straordinario, Alessandro ha lasciato un'impronta indelebile nella storia. E forse, proprio come nelle migliori storie raccontate da Alessandro Barbero, è questa fusione di storia e mito che rende la sua figura così affascinante e immortale.